questa no questa informazione naviganti quindi si va a differenziare il lavoro quindi lui può permettersi il lusso di vendere senza recensioni o con pochissime recensioni perché va a differenziare il lavoro rispetto a quello che fanno gli altri la chiave qui poi arrivano poi arrivano perché se la vogliono bene perché dopo facciamo un lavoro certo facciamo lavoro di un certo tipo dove se ti lascio recensione c'è il bonus bla 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 è tutto il processo che facciamo noi e quindi lo sembra quello che quella di libri ce l'hanno e quelle arrivano un lavoro ben fatto a gente contenta gli si chiede la recensione recensione arrivano all'ending page si sempre per qualunque soggetto per qualunque libro per qualunque bonus non bonus landing page e cerca di spremere il massimo questo assolutamente secondo me è obbligatorio con alcune di funziona meglio con alcuni meno però si è anche i bonus qualcosa di carino non è difficile abbiamo fatto uno in cui c'erano delle tracce audio ok per aiutarli a fare le attività brava brava presa youtube tirate giù tramite un tool solo la parte audio messa in un google drive la gente era semplicemente non c'è neanche non è neanche una truffa perché dici materiale di qualcun altro tu ti prendi la briga di raccogliere materiale che serve al tuo lettore per il suo scopo ok che se lo trova confezionato puoi dare i crediti tutto quello che vuoi ok è anche etico non c'è niente di male ok e credi allo youtuber di turno magari a lui gli fai anche un favore perché gli porti qualche iscritto in più perché alla fine non stai pagando certo però fai un raccoglitore di prodotti di utility o di strumenti che il tuo lettore può godere e non costa niente ci ha avuto anche poco tempo solo pensare un momento cosa ci metto abbiamo parlato anche delle zoom una cosa che potete fare vediamo questo suggerimento gratuito e farla lending dove mettete una raccolta di video che siano utili alla ai vostri lettori per esempio non è questo non è rubare perché i video di youtube ragazzi sono incorporabili sui siti basta dare crediti ringraziamo youtuber x per per questo video molto utile a per lui ragazzi sono visualizzazioni in più e sono contenuti sono e traffico in più che voi portate eventuali iscritti al canale gli state facendo un dispetto va benissimo basta fare una cosa basta mettere una lending incorporati piuttosto che magari mettere solo il video così un drive ma che sarà prima lending ancora meglio si si avevano la lending e tra l'altro è un bonus come si dice vivo nel senso che se il libro funziona bene puoi incrementare la lista aggiungere le sezioni e quindi mantenere anche il vecchio lettore che ci ha lasciato una recensione contento e poi magari rimandi la mail per il libro successivo che cavolo ne so io a seconda della risposta che hai